ciao ciao raga allora siamo qui a casa di luca casa di luca non è la canzone casa di luca no proprio casa sua con luca e giamma nome nome allora questi due motorini ci abbiamo qui un gilera trend con 75 atena dici un po 13 pari motore originale l'albero anticipato eccetera eccetera qui invece se abbiamo un altro si guardate raga fischio no quello dentro il freno a disco nella rota no si confondano dice vada è rota buata no vabbè nulla ha voluto fare l'esagerato qui ci abbiamo un sì invece con 65 dr 13 13 65 dr 13 pari però raga mi metti un freno a disco da 500 euro forse l'ha pagato anche di più e mi mette un tubicino così va bene si è sciopato in un bicchiere d'acqua va bene sentiamo un attimino si può sentire come girano questi motorini che poi ero in questo video ci sarà anche e lui sui motorini non lo conosce un po un po più cupo un po più cupo i motorini sono tutti e due sua lui dice questo e si va di più di questo secondo me no ora il pinta e luca partono da laggiù e arriva prima qua secondo me per scommessa arriva prima il gilera lui dice sì i motorini sono sua se lo dice lui per me no vediamo un attimo ora glielo riaccendo io no siete al meglio il basso vai vai eh non ma 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 dai, il Pinta mi fa fare pure di merda mi ha fatto passare male il Pinta, l'ha abituato alla Vespina lui è abituato alla Vespina, Maree Mandiana oh ma non si tiene giù, c'è Satana qui dentro hai visto? l'ho detto io, quello l'ha provato, hai sentito questo com'è? hai visto? va di più da lungo, ma questo è già più va bene raga, dai Pinta, Luca e Mire è tutto, fantastici, li vende tutte e due 300 e 400 più IVA, però lui l'IVA ce l'ha il 99% quindi 15.000 e 14.000 ciao raga